Dagli ultimi dati sull'occupazione a Cremona relativi al mese di settembre si evince una differenza tra settori, mentre nell'agricoltura, costruzioni e industria si è riscontrato un aumento di assunzioni e nel commercio e servizi vi è stato un calo rispetto al 2021. Nel settore del commercio e dei servizi c'è un calo di oltre i 2.2%. L'effetto del caro bollette e della diminuzione dei consumi è più marcato in questo settore. Evidentemente il settore del commercio e dei servizi risente, prima di altre realtà, delle fibrillazioni della guerra, non dimentichiamoci che è anche il settore che è aperto in maniera tardiva rispetto alle attività dopo la fase del lockdown, quindi probabilmente è quello che ha ancora bisogno di strutturarsi. Certamente però l'aumento dei costi dell'energia, così come anche il raffreddamento della domanda a livello complessivo, sta colpendo più il settore del commercio rispetto ad altri servizi. Una nota positiva è invece la diminuzione dei contratti interinali e la prevalenza di tipologie di contratto che hanno lo scopo di mantenere in essere e sviluppare nel lungo periodo il rapporto di lavoro. Sia per i contratti a tempo determinato che per i contratti a tempo indeterminato, facendo un confronto rispetto all'anno precedente, c'è un innalzamento del ricorso a questo tipo di contratto e questo per noi è un aspetto positivo. Quindi un po' meno l'interinale e comunque vanno il tempo determinato e l'indeterminato? Sì, abbiamo un calo in maniera significativa dei contratti a tempo interinali. C'è una stabilizzazione per quanto riguarda i contratti a tempo determinato e anche registriamo una certa continuità per quanto riguarda il tempo indeterminato, con una permanenza positiva per quanto riguarda anche i contratti in apprendistato.